Quest'anno il Consiglio regionale dell'Abruzzo è tra gli organizzatori del premio giornalistico Guido Polidoro insieme all'Ordine dei giornalisti abruzzesi, la Fondazione Carispac e la Biber. Il concorso, giunto alla 17esima edizione, è stato presentato ieri nella sala stampa dell'emiciclo che porta proprio il nome del giornalista aquilano cui è dedicato il premio. La giuria, guidata da Walter Capezzali, valuterà il materiale giornalistico presentato e nella cerimonia del 14 dicembre, che si svolgerà nella sala ipogea del Consiglio regionale, premierà i migliori tre lavori. All'evento sarà presente il presidente nazionale dell'Ordine giornalisti, Carlo Verna, che ha concesso il patrocinio per questa edizione. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i familiari di Guido Polidoro, il figlio Marco e la moglie Luigia. Il presidente di Pangrazio ricorda con queste parole la figura dello scomparso giornalista. Mi pare che ci siano tutti gli ingredienti per dire che questo premio ha valore, ha valore soprattutto perché è ispirato a un giornalista che ha lasciato il segno, non solo nella città dell'Aquila ma nell'intera regione Abruzzo. Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, sottolinea il valore del concorso. E' importante questo premio perché avete la partecipazione per la prima volta del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Infatti il 14 di dicembre, quando ci sarà la cerimonia, verrà il presidente nazionale Carlo Verna, che ci parlerà anche delle linee guida della riforma dell'Ordine professionale. Ma avete anche quest'anno la partecipazione del Consiglio regionale, quindi della più alta istituzione legislativa della regione. e questo dà un tocco di importanza e di qualità.